Sì, io vorrei... Sì, per due settimane sì. Siamo in altro augurio. Io vorrei... E ti dico la verità. Vedremo. Prima ho notato una cosa in Cristiana e il ragazzo dietro, no? Io credo che forse viversi fuori una storia sia meno difficoltoso di viversela qua dentro. Perché qua dentro ci sono troppe tentazioni e troppi problemi che possono far uscire un lato del carattere di una persona che non può piacere agli altri, no? E quindi condizionano i loro pensieri in base a quello che vedono. O magari c'è chi può dare ragione a me o chi può dare ragione a lei. Però posso passare per una brutta persona per loro e lei è una bella persona per loro. Quindi è condizionato. Se con Antonella le cose dovessero andare avanti come stanno andando avanti. Io ti ringrazio per il tempo che mi hai dato. Vado via. Vado via perché se no Maria... Cioè, io non mi arrabbi di male. La vita mia sta sempre così. Cioè, io non mi arrabbi di male. Grazie a tutti